Il mio piatto, che si intitola Primo Impatto, rappresenta una sorta, una moltitudine di meteoriti, di frammenti di meteoriti cadute in un prato. Le contaminazioni tanto amate da Tullio Regge vengono espresse in chiave culinaria nei sette piatti che accompagneranno la mostra da ottobre a marzo, in un divertissement degno della grande ironia di Regge. Protagonisti della sfida gastronomica agli chef Matteo Baronetto, Antonino Cannavacciuolo, Michelangelo Mammoliti, Cristian Milone, Alfredo Russo, Davide Scabin, Mariangela Susigan. Rappresento qui una serie di chef che siamo coinvolti in questo evento in collaborazione con la mostra Infinita Curiosità. È un abbinamento che può sembrare particolare e azzardato, ma in realtà ci sono molti punti di affinità tra la cucina e appunto tutto quello che è la scienza, la fisica e la chimica. In un certo senso gli chef sono in parte anche con il loro quotidiano, anche senza saperlo, dei chimici e dei fisici e questo abbinamento è una bella sfida per noi chef e ristoratori. Grazie. Grazie. Grazie.